Amici di Oltre Frontiera, benvenuti a questo nostro quinto appuntamento, quinto appuntamento con la rubrica che si occupa di rispondere alle vostre domande, alle vostre curiosità. Benvenuti da Roberto Lapaglia, dal giornale dei misteri. Domande e curiosità che verranno tratte dai vostri commenti, quindi un invito ad iscrivervi al canale, a lasciare appunto i vostri commenti, se vi fa piacere i vostri like. Ma Oltre Frontiera risponde anche alle domande e alla curiosità che pervengono via mail all'indirizzo ufficiale del canale che è frontiereproibitechiocciolagmail.com. Puntata molto ricca di curiosità, questo quinto episodio, e iniziamo subito con la mail che ci è pervenuta da Esther Damantova. Ciao Esther, grazie per averci iscritto. Esther, molto laconicamente, scrive appena 3-4 righe, oltre ai complimenti per il canale, complimenti per i quali ovviamente ti ringrazio. Ho visto un vecchio film di Liliana Cavani e volevo saperne di più su Milarepa, il personaggio che dà il titolo al film. Il film che hai visto, Esther, è sicuramente quello del 1974, che porta appunto come titolo il nome di Milarepa. Ma chi era Milarepa? Mila Raspa è sicuramente uno degli oggi tibetani più conosciuti nel mondo. Personaggio che raggiunse la completa scesi mistica e raggiunse la completa padronanza non soltanto del corpo fisico, ma anche degli elementi. Però Milarepa è anche legato in qualche modo al mondo del mistero, mondo nel quale appunto si muove frontiere proibite. Infatti il mistero cosiddetto di Milarepa si trova in una grotta, una grotta che si trova nella contea di Nihalam, nel distretto amministrativo del Tibet, la famosa grotta di Milarepa. Qui durante l'undicesimo secolo dopo Cristo Milarepa si rifugiò per estraniarsi dal mondo e vi rimase fino alla morte avvenuta a circa 84 anni. All'interno di questa grotta in pratica avvenne un evento molto particolare. Milarepa per dimostrare di aver ormai la completa padronanza non soltanto del corpo fisico, ma come dicevamo anche degli elementi. Poggiò una mano sulla volta della grotta e iniziò a spingere. Man mano la roccia iniziò quasi a diventare malleabile. La mano penetrò nella roccia e rimase una evidente impronta. Impronta ancora oggi visibile ai tanti visitatori che si regano appunto nella grotta di Milarepa. Nella grotta di Milarepa esistono anche altre tradizioni, altri racconti, oltre ad un'altra grotta abitata sempre da Milarepa, nella quale si racconta avvennero altrettanti misteriosi e strani episodi. Quindi Esther spero di aver esaudito alla tua richiesta e noi passiamo avanti perché la prossima domanda ci porta molto indietro nel tempo. Come sapete solitamente frontiere proibite ama viaggiare sia pur virtualmente nell'antichità, ma il luogo nel quale stiamo per recarci è veramente molto lontano nel tempo, come dicevo, in un tempo addirittura indefinito. Stiamo infatti per recarci nel mitico e famoso giardino dell'Eden. Ed eccoci arrivati appunto nel giardino dell'Eden. Grazie anche alla domanda che ci viene posta alla curiosità più che altro, che ci viene posta da Marco che scrive da Genova. Ciao Marco, grazie per seguire frontiere proibite. Marco ci scrive, ho letto ultimamente molti libri che riguardano la Bibbia, le varie curiosità e le stranezze. Quindi passa alla domanda. Secondo il libro della Genesi, Adamo ed Eva furono cacciati dal Paradiso per aver mangiato il frutto dell'albero che è in mezzo al giardino. Ma di quale frutto si trattava? Non ho trovato nessuna indicazione che si trattasse di una mela. Beh Marco, in effetti non esiste alcuna specifica menzione che faccia pensare ad una mela. Anticamente devi sapere che molti studiosi biblici pensavano addirittura che si trattasse di un fico, visto anche che quando Adamo ed Eva si ritrovano nudi e si vergognano agli occhi di Dio, usano delle foglie di fico appunto per coprirsi. di diverso avviso erano gli studiosi musulmani i quali parlavano di grano oppure di uva. Ma un'interpretazione del tutto diversa e che ci porta un po' a quella che è la tua curiosità, quindi alla famosa mela, ci arriva da Aquila Ponticus che era un antico traduttore dell'Antico Testamento vissuto durante il secondo secolo. Ponticus suppose che, e questo lo fece leggendo il Cantico dei Cantici, che il famoso frutto citato appunto nel libro della Genesi fosse la mela e quindi che l'albero fosse il melo. E forse proprio dalla confusione che in fondo fece Aquila Ponticus deriva un po' il fatto che tutti ormai pensano al frutto proibito come ad una mela. Comunque siano andate le cose, prima della seconda metà del Cinquecento non si trova alcuna notizia relativa a questa credenza. Ma in realtà, e anche questa è un'altra ipotesi, potrebbe invece essersi trattato di un puro e semplice disguido letterale nel tradurre l'Antico Testamento. Infatti il termine pomum per i latini aveva il significato di frutto generico, non di mela, mentre noi in realtà adesso come pomo intendiamo appunto la mela. Che se sia trattato di questo in effetti non lo sappiamo, quindi la tua curiosità è legittima, ma rispondere in maniera definitiva non è praticamente possibile. Abbiamo tante ipotesi, tante supposizioni. Quindi io saluto Marco da Genova, grazie ancora per aver scritto ad oltre frontiera e adesso preparatevi perché stiamo per affrontare davvero un mistero molto molto particolare. Parleremo infatti del mistero dei crani allungati. Il mistero dei crani allungati. Su questo argomento parleremo sicuramente in un prossimo episodio, ma non potevo certo non rispondere alla domanda che ci arriva da Dennis da Roma. Dennis che saluto affettuosamente, il quale appunto oltre a fare i complimenti al canale e i complimenti anche a me, ti ringrazio troppo buono, ci chiede appunto nello specifico cosa riguarda il mistero dei crani allungati e quali ipotesi si potrebbero fare. Bene, Dennis, visto che comunque ci sarà l'episodio, cercherò di essere abbastanza sintetico, anche per non rubare molto tempo alla visione di questo quinto episodio. Sappiamo che l'usanza di allungare i crani è tipica di molte tribù del passato, di alcune anche di alcune civiltà del passato, ma il vero problema è cercare di capire a quale scopo veniva portata avanti questa tecnica. La scienza ci risponde e ci risponde con un termine che è dolicocefalia, ovvero la presenza di crani allungati, che tra l'altro non sono davvero pochi in tutto il mondo, che ovviamente non è conforme a quella tipica del cranio medio attuale. Ora, secondo molti ricercatori, come dicevo prima, questa deformazione è del tutto intenzionale, quindi già fin dai primi mesi di nascita vengono eseguiti determinati rituali o comunque determinate operazioni che tendono appunto ad allungare le ossa del cranio fino a farle raggiungere quella forma particolare che tra l'altro vedete anche nella foto. La questione però è abbastanza complicata perché, ripeto, non sappiamo esattamente il motivo. Tra le altre cose all'interno di queste complicazioni, come tra l'altro Dennis giustamente fa notare, sono stati trovati a Malta dei crani dolicocefali senza la sagittale, ovvero la saldatura mediana del cranio. Questo particolare tra l'altro è anche abbastanza inquietante, anche perché molti si sono chiesti, ma allora come è potuto accadere una cosa del genere? Forse che questi crani non appartenevano a creature del nostro pianeta? Forse erano crani di creature extraterrestri? Qui la risposta diventa un attimino più complessa, anche perché nonostante varie volte siano venute fuori notizie che riguardano crani di natura aliena, successivamente alle varie analisi la notizia in pratica si è sgonfiata e si trattava soltanto di anomalie, ma anomalie del tutto terrestri, del tutto umane. Il problema di fondo però rimane. Per quale motivo si tendeva ad allungare i crani? Solitamente una pratica del genere, non soltanto per quanto riguarda il cranio umano, ma anche per quanto riguarda ad esempio l'architettura, oppure per quanto riguarda determinati rituali, determinate danze tribali. Si tratta di eventi che vengono perpetuati nel tempo per ricordare qualcosa del lontano passato. Possiamo quindi supporre che l'idea di allungare i crani fosse in realtà niente altro che tentare di replicare le fattezze di creature incontrate in un lontano passato oppure delle quali si aveva notizia attraverso la tradizione orale o attraverso le scritture, i resoconti storici. Questo ovviamente non risolve il problema, anzi lo complica perché a questo punto dovremmo chiederci chi fossero queste creature e soprattutto abbiamo notizie o tracce in merito. Notizie e tracce ne abbiamo davvero molto molto poche. Vi voglio ricordare soltanto un evento che in qualche modo potrebbe portarci ad esprimere una eventuale ipotesi. Il dio Oannes, del quale tra l'altro ci siamo occupati in un episodio precedente. Oannes portava sul capo uno strano cappello, se vogliamo così definirlo. Era molto simile stranamente alla mitra che viene usata oggi dai cardinali o dal papa e stranamente finiva con un'apertura che in qualche modo riportava alla mente la bocca di un pesce. Oannes tra l'altro si racconta che venne dal mare. Alcuni ricercatori però si sono posti un'altra domanda. E se quel copricapo in realtà serviva ad altro, ovvero serviva a coprire, a non far vedere un cranio che era molto diverso da quello degli uomini ai quali queste creature facevano visita. Ovviamente una risposta definitiva in tal senso non la possiamo dare perché non ce l'abbiamo. L'ipotesi ufficiale comunque rimane quella che tenta di mettere su due diversi piani ovviamente la spiegazione scientifica e tutti quei casi dove questa spiegazione scientifica non esiste. Addirittura si sono tirati in ballo anche i mitici e famosi nefilim. I crani allungati rimangono comunque un mistero. È probabile, se vogliamo seguire quelle che sono le idee che circolano all'interno del mondo appunto dei misteri, si potrebbero ricollegare a creature aliene, creature che avevano questa particolare conformazione. Conformazione tra l'altro che ovviamente fa pensare anche ad un volume del cervello molto più grande rispetto a quello degli esseri umani. Oppure si ricorda sempre, ripeto, la spiegazione scientifica che tra l'altro viene applicata anche nel famoso caso di Akhenaton, il faraone egizio che come tutti possiamo vedere viene sempre rappresentato con un cranio abbastanza particolare. I crani senza sagittale ovviamente non possono che richiamare l'ipotesi extraterrestre. Questo richiamo insieme al fatto che, come dicevo prima, nell'antichità si sentiva il bisogno di replicare anche per ricordare e tramandare antichi eventi molto particolari. Io parlavo di architettura, un esempio potrebbero essere ad esempio la forma architettonica delle piramidi. Così come un esempio potrebbe essere appunto il mistero dei crani allungati, ovvero crani che venivano allungati per ricordare un antico evento molto particolare che aveva segnato quella popolazione, ma anche per ricordare un altro fatto importante, ovvero che i possessori di questi crani allungati non erano di questo mondo, erano delle divinità e come tali coloro che avevano il crani allungato, quindi avevano finito la tecnica di allungamento, erano di stirpe reale, comunque persone da tenere in grande considerazione. Quindi io ringrazio Dennis per la domanda, per quanto riguarda i crani allungati ci vedremo in un episodio successivo, quindi continuo a seguirci e noi andiamo ad affrontare l'ultima curiosità per questo episodio, una curiosità anche questa molto molto intrigante, riguarda infatti la strana e misteriosa longevità registrata nella Bibbia riguardo agli antichi patriarchi. Ed eccoci giunti all'ultima domanda, l'ultima curiosità per questo quinto incontro con Oltre Frontiera, curiosità che ci viene posta da Alessandro Calamita. Alessandro che tra l'altro insieme a Dennis ci segue da tanto tempo, quasi fin dagli inizi del canale, per questo io affettuosamente lo ringrazio, così come ovviamente ringrazio Dennis. Alessandro ci chiede, perché nella Bibbia viene riportato che i patriarchi vissero per centinaia d'anni? è possibile? Alessandro per rispondere a questa tua domanda, alla tua curiosità, per soddisfare la tua curiosità, prima voglio raccontarti molto brevemente una storia. Nell'anno 1173 un viaggiatore persiano del XII secolo raccontò che durante il regno di Baldovino II di Gerusalemme, nel 1119, una parte della volta della famosa tomba dei patriarchi crollò riportando alla luce i corpi di Abramo, Isacco e Giacobbe. Subito dopo il crollo si provvide per nuovi sudari, i corpi vennero nuovamente inumati e la tomba dei patriarchi venne chiusa. La tomba dei patriarchi ovviamente esiste ancora oggi, si trova ad Ebron in Cisgiordania, ma perché ti ho raccontato questa storia? Perché dobbiamo partire da un dato di fatto, ovvero che i patriarchi in realtà sono personaggi realmente esistiti. Ovviamente però dobbiamo capire perché all'interno dell'Antico Testamento ai patriarchi viene assegnata una così lunghissima longevità, oltre il normale ovviamente. Diciamo subito che la longevità dei patriarchi biblici non è effettivamente una novità nella storia antica. Anche l'antica lista dei primi re sumeri riporta dati molto simili, se non addirittura anche più alti, più importanti dal punto di vista numerico. Lo stesso accade nell'Antico Egitto quando si parla nel papiro di Torino dei primi faraoni, primi faraoni che vivevano anche per millenni. Ma come è possibile tutto questo? Ci sono state, ci sono stati vari tentativi di spiegazione, te ne citerò alcuni, anche perché già te lo dico in precedenza, in effetti non abbiamo una risposta definitiva a questo quesito, alla tua curiosità. Si iniziò subito con il dire che la longevità estrema dei patriarchi biblici era soltanto una questione di simbologie. Quindi si tirò in ballo la gematria e si disse che quei numeri in realtà dovevano essere interpretati soltanto da un punto di vista della simbologia. In realtà questa ipotesi con il tempo cadde in disuso, anche perché non si trovarono riscontri plausibili. Si passò quindi ad una seconda ipotesi, ovvero quella che i vari traduttori e i vari scrivani che copiarono mano a mano la Bibbia, fecero un colossale errore interpretando male gli anni attribuiti a patriarchi. Mi spiego meglio. Date, e lo sappiamo, ne abbiamo parlato in vari episodi tra l'altro, le ormai sicure origini di gran parte dell'Antico Testamento dalle antiche storie dei sumeri, in pratica ci si confuse con il sistema decimale. Come Alessandro tu ben sai e come sapete anche voi che mi state seguendo, i sumeri avevano un sistema sessadecimale e non decimale, quindi basato su sessanta e non su dieci. In pratica, secondo questa ipotesi, i traduttori riportarono erroneamente la longevità, gli anni di vita dei patriarchi con il sistema numerico dei sumeri senza tradurlo nel sistema decimale. Anche queste ipotesi però con il tempo è venuta meno, anche perché facendo i vari calcoli matematici le età risultavano del tutto sballate, quindi non era possibile che fosse avvenuto tutto questo. Si passò quindi ad un'altra ipotesi ancora, ovvero che l'estrema longevità dei patriarchi e quindi l'età che sono state attribuite ad ognuno di loro, parliamo anche di 300, 700, addirittura 930 anni, in realtà non siano nient'altro che l'espressione e la somma di vari avvenimenti che caratterizzarono la loro vita. Anche queste ipotesi, ovviamente, bene sarete sicuramente resi conto, non superò poi in seguito i vari calcoli matematici di riprova. L'ipotesi riguardante la confusione fatta tra sistema sessa decimale e sistema decimale, tra l'altro è stata recentemente ripresa da un ricercatore russo di San Pietroburgo, Mikhail Verba, il quale afferma che non soltanto ci fu questa confusione, ma questa confusione venne generata da una cattiva traduzione dall'aramaico al greco. Infine, per quanto un'altra ipotesi ancora per tentare di chiudere questo discorso, è quella che riguarda sempre una confusione, ma questa volta confusione che riguarda i cicli lunari e i cicli solari. Alcuni studiosi, infatti, sostengono che i cicli lunari vennero confusi con i cicli solari e che quindi le età dei patriarchi sono 13 volte e mezzo più piccole di quelle esposte nell'Antico Testamento. Inutile dirvi, così come ho detto anche prima, che tutte queste ipotesi, sia pure interessanti, sia pure intriganti, comunque non hanno quasi mai retto o non hanno retto del tutto le successive verifiche matematiche. Il problema, in conclusione, si pone sempre, come ho detto prima, per quanto riguarda le altre tradizioni che parlano appunto di longevità molto lunghe, di vite vissute da personaggi storici o mitici che superano di gran lunga l'età media che poteva essere sia quella antica che quella moderna. Io avevo citato il papiro di Torino, che quindi sarebbe il canone reale di Torino, che parla appunto di faraoni che vissero anche per mille anni. Lo stesso canone sul quale furono trascritti i primi re sumeri parla di personaggi che vissero anche oltre l'età attribuite ai patriarchi biblici. Questo cosa potrebbe significare? Noi stiamo ovviamente parlando di personaggi antidiluviani, cioè di persone vissute prima del diluvio universale. Quel periodo, se ricordate bene, visto i vari episodi, che abbiamo dedicato a questo argomento, è anche il periodo famoso nel quale potrebbe essere avvenuto il famoso contatto con gli alieni. Parliamo quindi di patriarchi in parte realmente esistiti, vista anche la tomba dei patriarchi e viste anche tante altre prove delle quali magari parleremo in seguito, ma parliamo anche di personaggi mitici come i primi faraoni e i primi re sumeri. Parliamo quindi di coloro che erano delle vere e proprie divinità, divinità discese dal cielo. Nulla ci impedisce di pensare, sempre ovviamente a modo ipotesi, che la longevità in realtà non sia un fattore terrestre, ma potrebbe anche essere un fattore alieno, un fattore legato al tempo, alla concezione del tempo e quant'altro. Alessandro, io con questo spero di aver risposto in qualche modo alla tua domanda, di aver soddisfatto la tua curiosità e con la domanda di Alessandro Calamita noi chiudiamo anche questo episodio. Io vi ringrazio per avermi tenuto compagnia, spero l'episodio sia stato interessante o comunque almeno intrigante. Vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare i vostri commenti, anche perché oltre Frontiera la nuova rubrica di Frontiere Proibite la fate appunto voi, con le vostre domande e con le mail che vorrete scrivere all'indirizzo ufficiale del canale che è frontiereproibite.com. Io vi saluto, vi saluta il giornale dei misteri, l'appuntamento è per giovedì con la puntata classica di Frontiere Proibite, puntata durante la quale vi avviso ritorneremo ancora una volta indietro nel tempo e parleremo ancora di testi religiosi. Non vi dico altro, appuntamento a giovedì, grazie per avermi fatto compagnia, ciao a tutti. Grazie a tutti.